Ancora un successo per la stagione del nuovo Teatro Verde di Brindisi, con Nancy Brille e Chiara Noschese, protagoniste dello spettacolo Manola, un adattamento del romanzo scritto da Margaret Mazzantini. Due sorelle gemelle in contrasto tra loro, con due pianeti opposti nello stesso emisfero emotivo, Anemone, interpretata da Nancy Brille, sensuale e irriverente, il suo opposto, Hortensia, Chiara Noschese, Uccello Notturno, Irtusa e Rabbiosa, un fiume di parole che Anemone e Hortensia rivolgono alla loro squinternata coscienza, attraverso un girotondo di specchi, evocazioni, malintesi e rivalze. Le due non si scambiano una parola, ma entrambe si rivolgono a una certa Manola, forse una maga, un'analista, una divinità ultraderrena, un'amica immaginaria o, come detto, soltanto la loro coscienza, attraverso monologhi incrociati, assurdi ed esilaranti, che prendono forma in tragicomici pensieri, che sembrano prefigurare un futuro con le stesse dinamiche relazionali del passato. Un'interpretazione eccellente delle due celebri attrici, particolarmente apprezzata dal numeroso pubblico presente. Grazie